Gaeta per tre giorni capitale italiana dei giovani. Dal 3 al 5 aprile la cittadina del litorale laziale ospiterà infatti la quarta edizione del Festival dei Giovani, iniziativa dedicata alla cosiddetta Generazione Z, ideata da Noi Siamo Futuro e organizzata in collaborazione con l'Università LUIS e il Comune di Gaeta. L'obiettivo è orientare le nuove leve del Paese affinché siano consapevoli sulle scelte da fare, a cominciare dall'Università con i relativi percorsi formativi che dovranno necessariamente proseguire nel corso della vita, anche alla luce di un mercato del lavoro in continua e rapida evoluzione. Dopo il successo dello scorso anno, che ha registrato oltre 23.000 presenze di studenti e insegnanti, il Festival tornerà a Gaeta con nuove idee originali, sondaggi, contesti, incontri di formazione e dibattiti su temi di stretta attualità, come spiega l'ideatrice dell'evento, Fulbia Guazzone, di Noi Siamo Futuro. In questo senso il Festival dei Giovani ha creato un luogo d'incontro di ragazzi che arrivano da tutta Italia e che qui hanno la possibilità di esprimersi, di confrontarsi e di presentare anche i loro progetti, le loro idee. Il quadro che ne emerge è molto interessante, è il quadro di una generazione che ha tantissimi talenti e tantissime capacità. La scelta del percorso di studi è un momento cruciale, sottolinea il professore Fabiano Schivardi, prorettore alla ricerca della LUIS, secondo cui bisogna aiutare i giovani a fare scelte consapevoli. Spesso si sente dire in Italia che i laureati non trovano lavoro, che è inutile studiare. I dati dicono una cosa assolutamente diversa, ma i dati dicono tutti che soprattutto per chi fa le raure giuste, quelle che danno più possibilità di impiego, è molto più probabile avere un lavoro, tipicamente è meglio pagato, il livello di soddisfazione sul lavoro è più alto, le prospettive di carriera sono migliori. Per il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, il Festival è il fiore all'occhiello della città. Un'iniziativa importante perché permette a Gaeta di diventare un po' la città dei giovani, un grande laboratorio a cielo aperto dove i giovani si confrontano e soprattutto diventano i protagonisti di loro stessi, ma anche se penso che i giovani sono i protagonisti per la crescita dei territori. Main partner dell'iniziativa è Intesa San Paolo, che nelle precedenti edizioni ha scovato talenti finanziandone i progetti.